Le hanno lasciate anche in seconda fila pur di affrettarsi per andare allo stadio Mancini a vedere la partita di calcio tra l'Alma, Juventus, Fano e la Jesina. Ma quando gli automobilisti sono ritornati al forobuario di Fano a riprendere l'auto hanno trovato una brutta sorpresa, una multa sul cruscotto. A testimoniare quanto successo è l'ex presidente provinciale di Feder Consumatori, Sergio Schiaroli. Le macchine quindi come erano parcheggiate? Qui c'era un'altra fila di macchine dietro a questa, per cui quelle in mezzo sono rimaste incastrate. Io questo l'ho verificato nell'intervallo della partita perché sono dovuto uscire prima e c'erano i vigi e c'erano delle persone disperate perché non potevano uscire, erano rimaste incastrate. Ovviamente non sono mancate le polemiche su questa vicenda e c'è chi sulle pagine dei social network ha addossato la colpa agli extracomunitari che nel parcheggio chiedono soldi in cambio di una mano per trovare un'area di sosta libera. No assolutamente no perché quel giorno non c'erano, la domenica non ci sono. Devo dire che normalmente qui si parcheggia abbastanza bene, il caos è soprattutto quando c'è il carnevale. Anzi io lancierei la proposta che proprio sarebbe opportuno che durante le sfinate del carnevale tutti i parcheggi fossero meglio regolamentati. Magari far pagare un costo per il parcheggio visto che i turisti comunque portano dei problemi con il parcheggio e delimitando l'entrata e quindi non lasciare libero l'ingresso ma far pagare per il parcheggio. Questo potrebbe essere un introito per la città e per il carnevale stesso. Quindi anche un contributo per la manifestazione. A quel punto lì si paga solo un biglietto e la famiglia non è gravata di 3-4 biglietti. Un altro problema che si presenta in questo parcheggio è l'assenza di segnaletti corizzontali. In alcuni punti infatti le strisce bianche che delimitano le aree di sosta sono inesistenti mentre in altre zone non sono più ben visibili. Beh sì, se vedete qui adesso voglio dire un pochino è un po' scolorita però come vedete i segni ci sono però adesso non sono ben visibili quindi sarebbe opportuno certo rimetterli a nuovo.